Musica Eccoci ritrovati, ore 7, accanto a me un nuovo ospite Michele Poletto con cui parleremo di una serie di eventi musicali in una prestigiosa location che è Villa Manin Allora, lui è responsabile di Stageplan, dicevo, Villa Manin, teatro di tutta una serie di eventi che insomma musicali che poi infiammeranno diciamo l'estate friulana, non solo musicali, tanti eventi Sì esatto, eventi non solo musicali ma nel nostro caso musicali nel senso che io mi occupo in particolare di tre iniziative una ha inaugurato domenica scorsa questi appuntamenti domenicali all'interno del calendario di Villa Manin estate e le altre due si svolgeranno l'8 e il 15 luglio nel parco di Villa Manin Sono appuntamenti diversi dal solito perché sono al mattino Sì esatto ed è un po' è la caratteristica insomma che ci ha fatto aderire con grande entusiasmo a questa iniziativa ovvero la ricerca di location e comunque di situazioni e di contesti diversi dal solito come può essere appunto il parco di Villa Manin che credo abbia iniziato solamente lo scorso anno ad ospitare iniziative musicali e a contatto con la natura insomma quindi saremo ospiti del parco della Villa sotto ad uno dei bellissimi alberi insomma che lo popolano Sì sì un cedrano quindi ci sarà un palchetto montato sotto al cedro e appunto queste iniziative musicali Allora chi sono gli ospiti? Abbiamo detto noi arriviamo insomma con un già una data fatta che è quella di domenica 24 Sì con la Resistension Dub Esatto e invece e poi anche altri no? C'erano... Invece domenica 8 a chi tocca? Domenica 8 tocca i Pled e Snuda che mi vedono anche... Insomma è un evento che mi vede protagonista perché dei Pled e Snuda io sono il cantante Questo giro infatti ho presentato come organizzatore Però c'era anche la sorpresa La mia veste istituzionale La carambata esatto Quindi insomma toccherà a voi Diciamo chi sono i Pled e Snuda per chi non lo sa? Beh i Pled e Snuda sono una band nata nel 2005 che inizialmente si divertiva a riarrangiare brani famosi in chiave caraibica diciamo quindi in chiave scar, rock, steady, reg e quelle cose lì e che già dal 2010 si è messa a scrivere anche musica originale producendo più dischi l'ultimo è uscito nel 2016 e conteneva e contiene ancora perché è ancora sul mercato 10 brani scritti interamente da noi e prodotti da Cristian Rigano ovvero il tastierista di Giovanotti, Elisa, Tiziano Ferro e tanti altri Quindi insomma se non avete capito vanno ascoltati e quale occasione migliore se non ovviamente questa che è servita su un piatto d'argento Sì tra l'altro poi noi siamo molto contenti perché avendo ormai 13 anni di attività i primi seguaci hanno figliato E quindi vengono anche con... infatti anche la scorsa settimana abbiamo avuto modo di parlare di musica Parco del Rivelino eccetera e abbiamo proprio affrontato questo discorso una generazione la nostra insomma che ha molto seguito ha avuto la fortuna anche di poter vivere forse una delle stagioni più belle anche in città c'erano ancora i locali si poteva fare musica dal vivo eccetera e quindi adesso con tanto di figli al seguito ci si sposta in queste occasioni musicali Perché i concerti se non fosse chiaro si svolgeranno alle 11.30 del mattino la domenica Sì 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 questa è una cosa atipica però molto molto bella perché innanzitutto siamo di domenica ed è un orario insomma che poi scatta l'aperitivo si fa festa insomma è stata una scelta vostra questa di proporre l'idea del live diciamo mattutino o... No l'idea è partita dalla direzione di Villa Manin e noi appunto abbiamo aderito con grandissimo entusiasmo Vanno anche di moda questi... beh il concerto del risveglio all'alba eccetera la musica di mattina è una nuova frontiera per certi versi Sì non solo di mattina in generale le persone tendono a rispondere meglio quando la musica viene proposta in contesti appunto inusuali Questo è un caso insomma emblematico Esatto allora invece poi il 15 luglio tocca agli Elephant Clubs Gli Elephant Clubs sono una band lombarda che noi abbiamo scoperto come StageSpland abbiamo scoperto qualche anno fa che ha la particolarità di non utilizzare alcun altro strumento se non la voce Per cui sono sei elementi che esprimono e compongono e suonano esclusivamente cantando solo utilizzando la voce ma ricercando comunque delle sonorità e dei modi moderni Quindi si pensa alla musica a cappella quindi alla musica corale come forse a qualcosa anche di classico mentre loro sono tutto tranne che classici perché insomma fanno delle cose che spaziano dall'afro, funk, anche loro reggae, jazz quindi l'impostazione è più jazzistica che classica Quindi la voce è usata come uno strumento musicale Sì compresa la batteria quindi c'è la voce che fa quella cosa che si chiama Human Beat Box quindi suona la batteria con la voce C'è un basso che fa proprio le parti del basso e quattro bravissimi cantanti c'è una nutrita presenza femminile anche quindi sono anche bellissime da vedere Beh insomma vanno tre scelte diverse no? Perché appunto abbiamo tre generi musicali diversi e tre opportunità Tre stili diversi con insomma il comune denominatore appunto del parco, della musica e anche delle degustazioni perché insomma ci sarà la presenza di somministrazione di prodotti tipici locali Quindi c'è anche la promozione della tipicità locali, le birre artigianali insomma quindi sarà già il primo appuntamento è andato molto bene Crediamo che i prossimi andranno ancora meglio Allora dicevamo Villa Manin ospiterà tutta una serie di eventi che sono anche di altra natura perché abbiamo teatro, torno alla caccia alla favola con Altan e mostra Insomma è una residenza che si presta a questo tipo di eventi e che in estate prende un po' vita insomma Sì, devo dire la verità, anch'io insomma sono sempre stato abituato a vedere Villa Manin come un posto più istituzionale se vogliamo anche un po' con passato Sì perché in passato l'estato, le grandi mostre, i concerti diversi anni fa ormai Una villa che poi veniva, io avevo l'impressione insomma che non venisse sfruttata appieno, che venisse sfruttata appunto per questi eventi e poi invece in questo caso ritorna proprio al pubblico Sì, invece probabilmente lo era comunque usata, però è vero che i grandi non li fanno Però istituzionale è la parola giusta, insomma un po' con un certo distacco, invece in questo caso anche proprio l'idea di concerto mattutino restituisce un po' un posto alla gente Sì ma in generale a me è piaciuto molto quello che ha detto il direttore Giusa quando insomma ci siamo visti per la conferenza stampa Villa Manin è una villa che si apre, che apre le sue porte, cioè diventa casa di una serie di iniziative Tra l'altro insomma so che Villa Manin fa altre cose molto interessanti che sono le residenze artistiche per cui ci sarà uno spettacolo Se non sbaglio perché non vorrei dire in esattezze ma quello proposto e prodotto dal CSS Che è uno spettacolo di danza contemporanea ma anzi forse è multidisciplinare perché non c'è solo la danza Ci sono tantissimi eventi nel marasma Però quello è l'esempio di uno spettacolo nato dalle residenze artistiche, il concetto di residenza e quindi di vivere Villa Manin come una casa Secondo me insomma è molto molto bello Allora gli appuntamenti come dicevamo sono per domenica 8 luglio alle 11.30 con i Playa de Snuda E il 15 luglio invece performance degli Elephant Claps sempre alle 11.30 sotto della zona del Cedro Adesso Playa de Snuda a che punto siamo? Nuovi lavori, nuove cose? Facciamo un po' di... Sì, i Playa de Snuda hanno appena, abbiamo appena fatto uscire un video a maggio Sì Che si chiama Sole di Maggio Ed è l'ultimo singolo strato Abbiamo visto, abbiamo presentato, abbiamo visto con Andrea Ioime Lo so, lo so Lo so E quindi insomma quella è stata l'ultima iniziativa ed è l'ultimo singolo E chi c'è in questo video? Collabora con voi? Cebuna degli Africa United Abbiamo una fascia oraria un po' diversa rispetto all'Uomo delle Stelle per cui approfittiamo Magari insomma c'è qualche vecchia volpe del reg che ci segue Sì, insomma se se l'è perso, dubito, ma insomma anche abbiamo un pezzo di Africa United Che ha fatto con voi insomma questa collaborazione Esatto Com'è data? Beh, è andata benissimo Cioè è andata benissimo quando l'abbiamo realizzato in studio Perché Boone insomma è un amico ormai da anni e ci siamo divertiti a farlo Ci siamo divertiti ancora di più a girare il video che tra l'altro insomma è stato Molto bello È stato fatto tra le foci dello Stella e il Bosco di Muzzana Quindi anche lì insomma Avete scelto location locale insomma Beh ma lo facciamo, lo abbiamo sempre fatto sinceramente Insomma nel video precedente eravamo insomma sui Nella foresta di Tervisio Beh insomma anche giusto Cioè almeno chi abita qui che conosce i posti belli è giusto che li sfrutti no? Beh più che giusto è se vogliamo anche furbo Perché abbiamo dei posti così belli insomma che vale la pena sfruttarli Anche mostrarli agli altri E mostrarli agli altri certo Bene, allora in bocca al lupo per naturalmente il concerto di domenica Grazie per essere stato qui con noi Grazie a voi dell'ospitalità Io vi ricordo Playa desnuda domenica 8 a Villa Manin E poi appunto il secondo concerto che poi chiude il ciclo il 15 luglio con gli Elephant Clubs Sempre a Vì E andate ad ascoltarveli anche su Youtube insomma su Spotify eccetera perché meritano Benissimo, grazie mille Grazie a voi E buona giornata Piccola pausa pubblicitaria e torniamo subito dopo in diretta Grazie a voi